Mettetevi comodi perché di buon mattino vogliamo raccontarvi una storia che è fatta di arte, di sensibilità, di una comunità che si avvicina a questa sensibilità artistica e di donne che attraversano la storia e che cercano di riproporlo. Ilaria Margutti, buongiorno, benvenuta nel nostro studio. Buongiorno, prego. L'associazione di cui stiamo parlando si chiama Caserma archeologica e ti do subito la parola per illustrarci, per capire se è vero quello che ho appena detto, se è vero che questo mondo che avete creato da dieci anni, che è una realtà che esiste in quel di Sansepolcro, effettivamente è un mondo di sogni diventato realtà. Sì, è diventato realtà perché è nato tutto in maniera molto spontanea. Nel 2013 l'amministrazione di quel tempo mi aveva mostrato questo palazzo, un palazzo nobiliare al centro storico proprio di Sansepolcro ma abbandonato. Un palazzo che fra l'altro aveva una grande storia perché comunque era stato di una famiglia nobile fino alla metà dell'Ottocento e poi è stato caserma dei Carabinieri, poi è stata anche per cinque anni una scuola media e poi è stato dal 1986 fino al 2013 è stato abbandonato perché non c'era modo di dare vita a questo palazzo. Quando me lo fecero vedere e visitare era molto impolverato, non aveva finestre, non aveva luce, non aveva acqua, non c'erano i pavimenti, però in parte era stato in qualche modo riconsolidato. Io mi sono molto innamorata perché quando uno incontra uno spazio vuoto abbandonato ha immediatamente voglia di scoprire la storia che si nasconde e quindi la prima cosa che ho fatto nella mia meraviglia ho portato i miei studenti a visitare questo luogo. Questo perché diciamolo, tu in questo sei anche docente di storia dell'arte oltre che anche artista, quindi vivi l'arte proprio a 360 gradi, scusa se ti interrompe. E poi Ilaria, volevo sottolineare che siamo nella città natale di Piero della Francesca. Esatto, e siamo anche vicini al Museo Civico di Sansepolcro, siamo a 20 metri. Quindi un tesoro, uno scrigno. Abbiamo alle spalle la resurrezione di Piero, esatto. E quindi è chiaro che i ragazzi appena hanno visto questo luogo, ragazzi e ragazze, si sono affascinati, sono rimasti affascinati. E anche grazie al sostegno comunque dell'amministrazione, perché il palazzo è pubblico della provincia di Arezzo, ma in gestione al comune mi hanno aiutato a ripulirlo. E quindi i primi tre anni ho avuto queste piccole comunità di miei studenti che verso la fine della scuola, perché chiaramente non avendo finestre le attività le facevamo solo d'estate, però venivano con me più di una volta a fare le pulizie e a preparare gli spazi per accogliere le persone nelle mostre che organizzavamo proprio insieme. E quindi questo è stato il primo momento spontaneo. E da quel momento sono passati tanti anni, tanto lavoro, tanti sacrifici e allora adesso il nostro Giuseppe Chiantera ci porterà proprio a scoprire cosa avete realizzato. Guardiamo insieme. Caserma archeologica è aperta tutti i giorni, ci sono incontri, attività dedicate a linguaggi dell'arte più diversi, perché questo vuole essere un luogo che fa dialogare le arti, mettendo tutti e tutte in condizioni di comprenderne le ragioni, comprenderne le intenzioni. Oppure abbiamo uno studio musicale con un DJ e producer o altre persone che anche negli spazi vuoti, in questo imperfetto, trovano modo e occasione di esprimersi, perché una cosa che noi abbiamo imparato in questi anni è che proprio l'imperfezione è il vuoto che genera, perché chiama la partecipazione e ispira le persone a capire cosa possono dare al progetto per contribuire. Sansepolcro è famosa in tutto il mondo per essere la città natale di Piero della Francesca e qui Piero, come tutti lo chiamano, ha lasciato delle opere importantissime. Ci sentiamo profondamente inserite anche un po' il frutto della cultura che si respira ovunque nel nostro territorio. D'altra parte anche però ci interroghiamo come quella cultura storicizzata possa diventare generativa per il futuro. Ecco, questo è uno degli obiettivi di Caserma archeologica, rendere non attuale ma generativo per il futuro e per il contemporaneo la cultura che riceviamo in dono dal passato. Ricordo che la sera del 9 luglio 2017, quella sera io disse Ilaria che sarebbe stato bello vedere almeno 10 persone per fare due attività diverse al giorno a Caserma archeologica. Oggi a distanza di diversi anni abbiamo tantissime persone che vengono tutti i giorni a Caserma archeologica per fare due, tre attività diverse. Quindi vedere questa crescita in questi anni per me è fonte di grande commozione, soddisfazione e mi dice anche quanto questi territori possono essere davvero luoghi ricchi di partecipazione e di socialità. E questo per noi è molto importante, la porta aperta di Caserma archeologica è un risultato di un grande lavoro e siamo contenti che questa due 10 anni sia ancora aperta, anzi sempre di più e sempre più accogliente. E abbiamo visto in questo viaggio, la nostra guida è stata Laura Caruso, possiamo dire che braccio destro, ma non solo tu, per te è stata fondamentale perché siete state insieme fin dall'inizio, Ilaria. Assolutamente, è vero che Laura è arrivata un po' dopo, però senza di lei tutto questo non sarebbe stato possibile perché proprio l'unione della visione di Laura e la mia ci ha proprio reso consolidate anche proprio nell'obiettivo e nella condivisione degli stessi valori che ci accompagna, ci guida e allo stesso tempo credo che tenga insieme un po' tutta la complessità. Quindi due donne, Ilaria, due donne come un po' nella storia anche di questo palazzo, ricordando anche Minerva Muglioni, chi era lei? Allora Minerva Muglioni è stata l'ultima erede della famiglia Muglioni, ha sposato un discendente della famiglia Buitoni perché il palazzo ha avuto anche al suo interno il primo pastificio della Buitoni, quindi era anche un po' per questo che fa parte proprio della storia della città che in qualche modo si mescola ma anche si è dimenticata in parte e quindi lei teneva salotti culturali all'interno di caserma archeologica e quindi quando ho scoperto la sua esistenza proprio ho sentito questa forza femminile che è un po' atteso più di cent'anni perché ci potesse far scoprire questo palazzo. Quindi in un certo senso ci sentiamo anche eredi di una condizione femminile che alla fine dell'Ottocento era ancora costretta sotto determinate situazioni e invece noi oggi abbiamo proprio la possibilità di fiorire questa realtà che è diventata poi una comunità. In che modo fiorisce questa realtà? La parola salotto culturale ci fa pensare alle cose belle di un tempo ormai dimenticato e soppito ma oggi ritorna e non in veste di salotto più in veste forse di laboratorio, officina creativa. Che cos'è oggi? Caserma archeologica oggi è tante cose perché chiaramente da una parte abbiamo degli spazi espositivi e dall'altra abbiamo anche degli spazi dove vengono tanti studenti a studiare. Il pomeriggio siamo sempre pieni di studenti perché comunque abbiamo delle sale anche grazie all'associazione Il Timone che si occupa proprio del doposcuola di ragazzi e ragazzi che hanno bisogno di sostegno per gli studi. E poi è anche laboratori per bambini ma anche residenze artistiche. Cioè noi di solito lavoriamo con artisti che non vengono e fanno una mostra ma interagiscono con il territorio, con la nostra comunità, la indagano e poi attraverso la loro poetica restituiscono un'opera creativa come ad esempio nell'ultima mostra che abbiamo fatto con Alessandra Baldoni che è stata una residenza ed è diventata una mostra. Si intitola Corpo Celeste e lei ha fatto proprio un'indagine poetica, una mappatura poetica dei giovani che sono della Val Tiberina confrontandoli con frammenti di opere d'arte o comunque piccoli luoghi particolari della città di Sansepolcro. E poi alla fine le sue fotografie sono proprio diventate una mostra che ora è in esposizione a caserma archeologica. Ilaria è bellissimo proprio leggere nei tuoi occhi la passione per quello che hai fatto in questo posto, che avete fatto. E anche quando questa mattina ci siamo salutate tu hai detto mamma mia sono passati dieci anni, non mi sembra vero. Ma ricordi ancora la prima volta che hai visto questo posto? Pensavi che tutto ciò potesse realizzarsi? No, tutte le volte che apro la porta di caserma c'è proprio ringrazio, un senso di ringraziamento anche di tanta resistenza, il lavoro chiaramente quello quotidiano è tantissimo perché sono realtà culturali che vivono sempre sul filo di un rasoio. Oggi sta andando tutto molto bene, non riesco neanche quasi a credere perché effettivamente è un po' un desiderio che si avvera. Dietro chiaramente tanto lavoro. Quando abbiamo le scuole che vengono in visita molti studenti mi dicono ma come ha fatto, ha desiderato qualcosa e l'ha realizzato. Io dico sempre ragazzi mi raccomando attenzione a cosa desiderate perché poi quando si realizzano è ancora più necessario l'impegno per far sì che questo desiderio resista. e quindi ecco è un po' sì è un'emozione quasi tutti i giorni nonostante che ogni volta siamo sempre coinvolti da varie attività. Noi ti ringraziamo, vi ringraziamo per questa cosa che siete riuscite a tirare fuori dal nulla anche perché questo può essere veramente esempio per tutti quanti perché la tua collega, il tuo braccio destro Laura diceva noi abbiamo visto il vuoto, l'imperfezione, abbiamo cercato di abitarlo, di andare proprio lì e quante volte ci capita di vederlo anche nella vita di tutti i giorni e di sentire quelle mancanze. Avere il coraggio e la visionarietà anche di andare proprio a occupare quei vuoti dà una collocazione diversa alle cose e forse anche a noi stessi. Noi ti ringraziamo per essere stata con noi. Grazie. Grazie Ellaria Margutti, ringraziamo anche Laura Caruso e diamo a tutti appuntamento appunto a Sansepolcro. Grazie infinito. Grazie.